La protesta spontanea degli autisti dell'Ataf di Foggia nella giornata di giovedì, una protesta che è spontanea e che non è riveribile sicuramente alla organizzazione dei sindacati, così come era stato diffuso in un primo tempo, in una nota congiunta firmata dal sindaco di Foggia Landella e dal presidente dell'Ataf Ferrantino. Hanno replicato qualche ora dopo proprio le stesse organizzazioni sindacali, mettendo in evidenza che la protesta dei lavoratori è spontanea e non è stata organizzata dalle stesse segreterie, come era stato affermato da una emittente televisiva provinciale. Sulla pelle dei lavoratori il dato oggettivo è che l'azienda deve ricavare una liquidità di 600 mila euro l'anno. Le gravi parole del sindaco riperite ai lavoratori non vanno nella direzione di calmirare gli animi degli stessi, ma al contrario stanno impiammando ancora di più la situazione e non aiutano nell'opera di convincimento a far rientrare la protesta da parte delle organizzazioni sindacali. Mimmo Siena, Speciale News. Grande attesa a Cirignola per venerdì al Teatro Mercadante per il terzo concerto degli Off the Wall, la tribute band di Michael Jackson insieme alla celebre chitarrista del re del pop Jennifer Button, di nuovo insieme questa volta per un evento benedico. Si tratta del terzo incontro tra la celebre chitarrista ed il gruppo musicale. Il concerto è organizzato da un'agenzia musicale all'interno del progetto Mafalda ed è volto a raccogliere fondi in accordo con la diocese di Cirignola Ascoli Satriano per la realizzazione di una struttura per immigrati in località Borgo Trettitoli per quanto riguarda l'anno giubilare della misericordia. L'idea di un evento benedico non è una novità, hanno detto il gruppo. Anche nel 2014 abbiamo spedito fondi a un'associazione americana che sta portando avanti un progetto di Michael Jackson. Un anno fa invece i fondi sono stati ricolti per la piccola Sara e abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza a una bimba che crediamo abbia tanto da insegnare alla civiltà moderna. Mimbo Siena, Speciale News. La festa della Repubblica è di Giuseppe di Vittorio perché sarà ricordato in una tre giorni che è stata organizzata dal comune di Cirignola. Si parte il primo giugno con il ricordo che avverrà nell'aula consigliare con l'intervento dello storico Angelo Giuseppe di Visceglia. Il giorno successivo il sindaco Francometta deporrà una corona di fiori davanti all'ex palazzo comunale. Infine il 3 giugno al volo museale civico al piano delle fosse ci sarà l'evento di Vittorio Costituente con la presenza dell'attore Flavio Bucci che sarà la voce di alcuni passi dei discorsi di Giuseppe di Vittorio all'Assemblea Costituente. Infine ci sarà uno spettacolo musicale con Michele Dell'Anno e Giustina Specchio. Dal titolo anche le dietre lo volevano bene. Cigi Marinelli allenatore dell'Allianz Udas Basket siamo quasi vicini a una partita che potrebbe essere fondamentale per il vostro cammino senza andare in lungaggini dentro fuori contro Pozzuoli. Sì, sappiamo tutti che sarà una partita fondamentale per andare agli spareggi e quindi niente, una partita dentro fuori diciamo che ne abbiamo già affrontate quest'anno diverse partite come quelle dei play-off. Sappiamo cosa ci aspetta. Chiaramente il valore di Pozzuoli è un'ottima squadra quindi non sarà per niente facile visto che succederà anche in casa. Però noi così come abbiamo fatto anche a PS, così come abbiamo fatto a Cefalù, comunque in questi momenti importanti la squadra fa sempre delle ottime partite. Quindi diciamo che siamo fiduciosi sicuramente per Sabra. Non vi è dubbio che è stata una settimana in cui siete stati veramente sotto pressione anche perché ovviamente a questo punto non si può più fallire. E vabbè ma lo sapevamo e sapevamo che anche la partita di Cefalù non era determinante perché la cosa importante era questa di Pozzuoli. Quindi come ho detto anche l'altra volta se c'è una giusta pressione voglio dire è positiva. I ragazzi sanno che la partita è difficile, è una partita dentro fuori quindi andiamo a Pozzuoli pronti comunque per fare il risultato. Tra l'altro nell'intervista che ci è stata riversata domenica scorsa dopo la vostra partita il coach Servico ha fatto chiaramente intendere che vuole riscattarsi dopo la beppa che ha subito in casa quando li avete battuti con quel canestro di serazzi sulla sirena. Chiaramente, a loro brucia la sconfitta per come è venuta perché abbiamo rimontato i 15 punti in 3-4 minuti. Ma anche noi non siamo da meno e siamo pronti a dare battaglia. Senti come avete passato la settimana GG? Settimana, franne oggi in cui il capitano aveva un problema alla schiena e quindi abbiamo in parte riuscito ad allenarci, non abbiamo forzato, però martedì e mercoledì abbiamo fatto sicuramente degli ottimi elementi. Oggi diciamo per necessità per tu, visto che avevamo questo problema e comunque siamo in 10, ci siamo un po' più riposati, però va bene così. Grazie a tutti.